Caffè, bocchetti, birra e coca? Ciao, ho 28 anni, ho deciso di venire proprio il grande fratello perché... È bello sentirsi napoletani. Mi piace come se vive qua a Napoli. I napoletani sono delle persone furbe, cercano sempre con intelligenza di andare più avanti degli altri. È il modo di essere la gente. Per me è la cosa più bella perché si assomiglia tanto a noi. Sono ecocentrico, sono... Sono uno che...